Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 si è verificata a 124 chilometri a nord-est dell'isola di Lombok in Indonesia, a una profondità di un chilometro. Poche ore dopo la scossa di 6.3 è registrata sull'isola stessa. Ad essere colpita la stessa area devastata il 5 agosto dal sisma che ha causato la morte di 460 persone. Il terremoto ha provocato delle frane sul Monte Rignani che hanno danneggiato alcuni edifici e seminato il panico nei villaggi della zona. Non si hanno finora notizie di vittime o feriti, ma le ricerche proseguono. La scossa è stata avvertita anche nella capitale dell'isola, a Mataram, nella vicina Bali e a Lombok Est.